riprendiamo con la via che adesso ora non mi ricordo comunque ormai lui tutti gli anni lo incontro quello che balla ma sai che è sempre lui no? quello che balla no? è sempre lui quello che ho uno che balla per tre come è? quello che ho visto ma non è quello che è il piano no, non è quello che è il piano io le ho perse, le ho perse, no, non siete voi, no, siete voi, no, non c'avevo loro aspetta che invece vediamo grazie 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 Grazie!